Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, nuovo gingillo accessorio domotico di casa Sonoff, nuovo contatto radio per porte, seramenti eccetera Zigbee e si chiama SNZB04P. Porta qualche novità, funziona molto bene e sicuramente sarà di interesse altissimo per chi usa fare impianti di antifurto usando dei dispositivi Zigbee. Dispositivo Zigbee vuol dire sicuramente un basso consumo energetico rispetto a un dispositivo wifi che consuma inevitabilmente molto di più, dispositivo che non occupa diciamo un spazio indirizzo IP nella rete wifi perché si collega direttamente all'hub Zigbee il quale solo lui, quindi un IP, accede alla vostra rete wifi o cablata in base al tipo di bridge che usate. In casa Sonoff ci sono vari hub, vari bridge che si possono usare Zigbee. Spesso mi chiedete se anche altri hub vedono i dispositivi Zigbee di Sonoff, in teoria sì, però io finché poi non faccio la prova non sono sicuro di darvi questa risposta come certezza assoluta. Dispositivo di oggi molto interessante, è appena uscito, è nuovo, è uscito in questi giorni quindi facciamo un po' di prove, io ce l'ho già su da un po', vi dico nessun problema ma ve lo faccio conoscere andando avanti col video. Mi raccomando se siete iscritti al canale controllate perché magari lo eravate e a volte youtube toglie le iscrizioni, se non siete iscritti adesso giusto il tempo della sigla per cliccare qua sotto non costa nulla e mi aiutate a far crescere il canale. Eccolo qua, Sonoff SNZB quindi Zigbee 04P, scatola arancione come tutti i dispositivi Zigbee, può gestire chiaramente l'apertura delle porte, dare degli allarmi su delle camere, fare delle opzioni di scene e robe varie, tutte le caratteristiche del prodotto, alimentato con batteria CR 2477, connessione Zigbee 3.0, temperatura operativa che può interessare da meno 10 a più 60 gradi. Eccolo qua, troviamo un form factor diverso da quelli a cui siamo abituati, questo è il magnete già dotato di biadesivo, stesso biadesivo che troviamo anche sul sensore Zigbee, linguetta per alimentarlo quindi per abilitare la batteria, qui sopra c'è un pulsante e qua vedete c'è un piccolo switch, questo qui è un tamper praticamente, quindi sente quando viene rimosso dal punto in cui viene applicato, non è previsto un altro tipo di fissaggio se non il biadesivo, biadesivo 3M di qualità qui e qui, come andrà posizionato vedete che qua c'è una tacchetta, qua c'è una tacchetta quindi questa sarà la posizione del sensore e del magnete. Bene, ora bisogna fare l'accoppiamento, quindi lo alimentiamo, togliamo la linguetta, lui da questo momento in poi è alimentato, non vedo led, sì ce n'è uno qui davanti che lampeggia rosso quindi modalità di accoppiamento, andiamo ad aggiungere un dispositivo, come faccio l'aggiunta? Con più, aggiungi dispositivo scansiona quindi inquadrando un QR code e inquadriamo il QR code che c'è sotto al dispositivo. ZigBit Door Window Sensor, SNB04P viene trovato, ci spiega che cosa sono tutti gli indicatori e robe varie che troviamo, il pulsante l'abbiamo visto, il led, il vano per la batteria e qui abbiamo la possibilità anche di andare nel manuale di uso. Aggiungiamo il device, power on l'abbiamo fatto, next, bisogna tenere premuto per 5 secondi se non è in accoppiamento, vediamo se è uscito, probabilmente è uscito perché non lampeggia nulla, quindi teniamo 5 secondi, torna a lampeggiare il led rosso, quindi è in accoppiamento, andiamo avanti, dice che il led rosso deve lampeggiare, ok, tutte queste procedure una volta non c'erano, era più macchinoso, non si capiva bene cosa fare, adesso hanno migliorato di molto la grafica nell'applicazione per la procedura di accoppiamento, dice a che cosa vogliamo associarlo come bridge, in questo caso nella mia app WeLink trova l'NS panel e lo ZigBit Bridge P, scelgo lo ZigBit Bridge P, ok, bisogna mettere la spunta blu, anche se mi va un po' fuori dal bordo, ma non so se è un problema di questo telefono, tra l'altro mi dice che il mio bridge sarebbe anche da aggiornare, vado avanti, fa la ricerca, vedete che trova un dispositivo, una volta che l'ha trovato sappiamo che è uno solo, possiamo anche andare avanti direttamente, perfetto, quindi qui ho un po' di dispositivi, tra cui una valvola, un sensore, sensore eccetera, e troviamo anche lo SNZB04P, perfetto, una volta aggiunto lo troviamo dentro la nostra schermata dei dispositivi, vado un secondo a effettuare l'aggiornamento del bridge per evitare magari di perdere qualche nuova funzione, perfetto, aggiornamento del bridge terminato, possiamo uscire e andare direttamente nel dispositivo SNZB04P, cosa ci dice? Semplicemente che in questo momento è aperto, che la batteria è carica, iniziamo a capire come si comporta il magnete, quindi la velocità di comunicazione, di reazione, mi dice sempre che è aperto, ora dice che è chiuso, vedete che è molto veloce la comunicazione, cerchiamo di capire che distanza lo rileva, ha un centimetro buono, lo prende senza problemi, siamo a un paio di centimetri, verso i 3 centimetri si apre però diciamo che per stare tranquilli, ma questo succede più o meno con tutti i contatti magnetici, dobbiamo stare proprio per essere nel giusto a circa un centimetro, poi se stiamo attaccati non succede nulla, se siamo a due più o meno funziona, più lo mettete vicino più siete tranquilli che prenderà sempre. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo uno switch qua dietro, vediamo cosa succede, non succede nulla come notifica, ma possiamo controllare nelle impostazioni che cosa abbiamo. Allora intanto abbiamo il nome, siamo all'ultima versione in questo momento 220, dice che l'RSSI forte meno 40 dbm dovrebbe essere il disturbo radio, dice che non c'è disturbo radio, quindi va bene. Tutte le piatteforme di terze parti a cui lo possiamo associare, la posizione condividerlo, notifiche push ci può interessare, quindi dovrebbe notificare ogni volta che viene aperto e chiuso, ma verifichiamo e non abbiamo altre impostazioni praticamente. Usciamo dall'app, la chiudiamo, vediamo se ce lo notifica. Sì, dice che l'SNB04P è stato aperto e che è stato chiuso. Entriamo dentro e ci porta direttamente nei messaggi, quindi è stato aperto, è stato chiuso. Allora torniamo nel dispositivo, lo rinominiamo, porta taverna e lo salviamo. Intanto vediamo se abbiamo l'integrazione almeno con i comandi vocali dell'assistenza di Amazon. Quindi dispositivi... Ah no, porta taverna, vedete che l'abbiamo già trovato, probabilmente mi sono perso la notifica. Ci dà lo stato, quindi riesce a capire se è aperto o chiuso. Se lo apro, mi arriva la notifica di EWiLink e anche in Amazon mi dice subito in che stato è il contatto. Quindi fin qui tutto bene. Chiuso in EWiLink, chiuso in Amazon, quindi tutto bene. Facciamo una verifica vocale. Lo stato della porta taverna. Sul dispositivo porta taverna questa funzione non è disponibile. Vabbè, diciamo che a livello di vocale non riesco ancora bene a capire, ma vi terrò aggiornati, come gestirla. Però quello che possiamo fare sicuramente è aggiungerla in una routine. Quindi andiamo a creare una nuova routine. Quando dispositivo nella casa intelligente porta taverna. Quando porta taverna si chiude o quando porta taverna si apre possiamo scatenare delle routine. Chiaramente lo stesso criterio di partenza ce l'avremmo nel creare delle scene. Quindi se dispositivo intelligente porta taverna è chiusa e aperta, addirittura abbiamo se rimane chiusa per un periodo, quindi dopo un po' di tempo che è stata chiusa succede qualcosa o dopo un po' di tempo che rimane aperto succede qualcos'altro. E questo è molto molto interessante perché se dimentichiamo una porta aperta, non abbiamo attivato le notifiche o non le abbiamo viste, possiamo ad esempio collegare un sonoff qualsiasi che magari accende una luce, fa suonare una sirena. Insomma la fantasia qua prende piede e potete creare tutto quello che vi viene in mente. Possiamo usare come criterio di partenza se viene rimosso, se viene rimosso e semplicemente se viene aperto il tamper posteriore. Poi chiaramente questo sensore può essere utilizzato in funzionalità di sicurezza. Torniamo a prendere il nostro Zigbee Bridge P, il contatto magnetico ci aiuta nella gestione di tutti gli allarmi eccetera. Volevo ancora controllare la cronologia, abbiamo la data e l'orario in cui viene aperto o chiuso. Non si aggiorna in tempo reale perché vedete che siamo a 9, 29 e 31. Torniamo indietro, rientriamo in cronologia. Adesso viene aggiornata la cronologia quindi possiamo accedere solo dopo che sono stati memorizzati gli eventi. Possiamo svuotarla ma ad oggi non abbiamo un tasto per scaricarla la cronologia. Non tiene conto dello switch posteriore. Farei ancora una prova quindi visto che c'è il tamper e vorrei vederlo funzionare, prendiamo ad esempio la presa quella che vi ricordate che l'avevo smontata. Questa la funziona ancora, è un po' martoriata ma funziona ancora. La alimentiamo, lei si accende, come facciamo a vedere se risponde? Ci metto una luce di emergenza. quando spengo la presa vedete che si accende l'emergenza e andiamo a creare una scena. Nuova scena, costruisci ora. Se dispositivo intelligente porta taverna viene rimosso, quindi salva. Che cosa fa? Dispositivo intelligente andiamo a cercare la presa. Ok. Me la spegni. Quindi se viene rimosso mi spegni la presa, la salvi, la chiami test tamper e la salviamo. Completato. La scena dovrebbe già essere operativa. Allora non gliene frega niente se lo prendiamo e lo apriamo e lo chiudiamo. Mi arrivano tutte le notifiche ma la presa non fa nulla. Togliamo un secondo le notifiche dell'apertura della chiusura perché altrimenti diventiamo scemi. Quindi in questo momento abbiamo il nostro sensore che se è chiuso o aperto non deve fregar niente alla presa che è gestita nella scena. Tra l'altro volevo farvi notare senza luci che il led risponde ogni qual volta viene chiuso o aperto il contatto. Nel momento in cui vado a togliere il sensore dalla sua posizione, si accende immediatamente quella, funziona la scena. Chiaramente questa è una scena su cloud e quindi funziona solo collegato alla rete con accesso a internet e tutto. C'è poi sempre il discorso della IOS che invece gestisce le scene in locale anche senza accesso a internet ma su questo non abbiamo mai focalizzato il discorso perché non ho mai apprezzato molto questo dispositivo. Bene questo è quanto quindi molto molto versatile. Il pulsante serve solo per l'accoppiamento. Il tamper l'abbiamo visto. Direi di piazzarlo così lo tengo sotto controllo per un po' di tempo e magari tra qualche tempo vi so dare aggiornamento sulla durata della batteria, su come si è comportato e tutto quanto. Ok lo piazziamo proprio qua sulla porta della mia taverna. Qui c'è il vecchio sensore, la versione wifi, quello che dava un sacco di problemi perché si sconnetteva, perché usava la 802 11b ed era scomoda, insomma non benissimo. Dove lo montate date una bella sgrassata per far aderire il biodesivo. Quindi vediamo se ci sta. Chiaramente la posizione corretta sarebbe un po' più in alto. Comodità mia lo tengo a portata di mano non si sa mai. Attacchiamo il biodesivo qualche secondo di pressione. Attacchiamo anche il magnete. Ok. Un po' di pressione. Anche qui abbiamo un contatto radio Zigbee funzionante, perfettamente installato. Oppure vi faccio vedere un altro esempio di utilizzo qui con l'assistente di Amazon. Ho creato questo tipo di routine dove all'apertura della porta con il contatto dirà una frase che viene impostata. Quindi io adesso apro e lei dice qualcuno sta entrando. Quando chiudo non fa nulla e questa è un'altra applicazione che potrebbe essere interessante. Bene dispositivo interessante. Carina la presenza del tamper dello switch dietro. Ripeto è un sistema che riesce a integrarsi per creare una specie di antifurto domestico. Come vi ho sempre detto io purtroppo per deformazione professionale sono un installatore di sistemi antintrusione. Quindi per me l'impianto di antintrusione è l'impianto di antintrusione. Però se volete creare un piccolo antifurto con delle sirene e tutto quanto usando dei dispositivi Zigbee magari sul camper o magari anche in una casa domotica dove però secondo me dovrebbe anche esserci un vero e proprio antifurto va bene tutto. Diventa interessante perché lui vi permette di gestire delle routine, delle automazioni, tante cose simpatiche e soprattutto funziona bene. In questi giorni che l'ho provato, giorni, settimane, ce l'ho da un bel po', non ha dato nessunissimo problema. È sempre veloce, è sempre presente e non si è mai sconnesso. A differenza come vi ho fatto vedere del vecchio sensore wifi ad esempio che era stato un disastro. Questo è tutto. Se il video vi è piaciuto un bel like, mi raccomando ricordatevi sempre, noi ci vediamo al prossimo video diretta di giovedì o se passate al negozio da Torino ci prendiamo un caffè. Ciao da massi dattoli!